Porteggirevoli in difesa, la Virtus Francavilla ritrova Alessandro Caporale ma perde Riccardo Idda, anche per il capitano Biancazzurro. L'assenza sarà riconducibile a un turno di stop per squalifica. Come del resto, nella squadra avversaria non ci sarà uno dei calciatori più temuti, quell'Emilio Volpicelli, che la Virtus ha corteggiato qualche anno fa e con Miceli diffidato e quindi a rischio giallo, è alta la possibilità che nelle ultime due giornate del 2022, la retroguardia di Calabro possa continuare a mutare. Confermato nel terzetto difensivo, dunque Minelli, che tanto bene ha fatto quando chiamato in causa, così come Solcia, che meriterebbe più spazio e spesso invece costretto a mordere il freno in panchina o a entrare nel secondo tempo, come è successo a Picerno. E mentre restano da valutare le condizioni di Di Marco, uscito malconcio dall'ultima gara, i Biancazzurri si godono Macca, il gioiellino classe 2003, ha incantato per personalità, visione di gioco, incisività negli ultimi 30 metri e in questo momento sta dimostrando di avere qualcosa in più di tutti in quel reparto del campo. In avanti invece si riparte da Patierno, ma l'ingresso di Perez domenica sembra finalmente consegnare a Calabro un'arma in più in zona goal.